Un mese fa, il 23 di marzo, in compagnia di Eren, Gianco ed Eme ho partecipato ai Rivals di Minecraft, un torneo organizzato da Twitch a cui hanno preso parte 80 streamer di diverse community internazionali divisi in 20 team da 4. E a tal proposito ci tengo a ringraziare Eren perché, in quanto capitano del team, è stato lui ad invitarmi a partecipare. In palio c'era a disposizione un monte premi da 25.000 dollari e abbiamo avuto 5 minigame per cercare di classificarci il più in alto possibile. Come ce la saremo cavata? Scopriamolo insieme! Allora, possiamo fare una bold prediction? Siamo 20 team. Secondo voi dove ci piazziamo? Bold prediction vuol dire una predizione per pelati? Sì, esattamente. Infatti io sono pelato. Undicesimi, perché dà fastidio. Undicesimi? Secondo te Eme? Fuori dalla tradizione di poco. Secondo me arriviamo anche ottavi. Io dico sedicesimi. Ho detto sedicesimi è un bel numero. No, no, secondo me è sedicesimi. Sai perché? Perché c'è l'ultimo chunk di player, di quelli che dicevano proprio il premio più basso, che va dal sedicesimo al ventesimo posto. Noi arriveremo sedicesimi per tipo due punti. Certo, sono tipo 25 dollari di differenza. Però io so che il Rosic ci sarà. Prima di continuare vi ricordo che tutti i giorni, tranne la domenica, sono in live sul mio canale Twitch. Link in descrizione e nel commento pinnato in alto. E ora torniamo a Minecraft. Eme, c'è un tuo fake. Eme, c'è una tua copia. Ah, ma siete già... C'è Berro! C'è Berro! Sì, Berro! Quanto è fastidioso Timer & Blaze Emerald 96. È pure un colore che non è nessuno di noi. Cioè, Eren è rosso, tu sei verde, io viola, Gianco marrone. Io aspetto soltanto Timer & Blaze e Remblaze. Dov'è? Eccolo qua, Timer & Blaze e Remblaze. Oh, sì, sta arrivando. Sono tipo il Mega Chad. Eccolo qua, Timer & Blaze e Remblaze. Che cazzo di sfigato. Sì, scusa, volevo dire, ti voglio bene, Sibu. Oh, come cazzo ti permette di assuntare il tuo capitano? Scusami, scusami, Capitan Blazer. Cioè, scusami, Capitan Blazer. Non volevo. Senti, senti, Tiar. Dibbi. Qua ci sono i team con le tutine abbinate, sono i Power Rangers. Noi siamo delle sfigate. Oh, vogliamo cambiare skin al mondo. Ma sono i mates francesi, quelli. Ho deciso di mettere la skin napoletana. Le matesse. Le matesse. Allora, ci sono cinque minigame. La possiamo dire com'è strutturato? Penso di sì, che ci frega. Ci sono cinque minigame. Il primo è un caccia agli achievement, però in forma bingo. Quindi dobbiamo farli cercando di fillare colonne e righe. Il secondo... Il secondo che cazzo... Ah, il secondo è una gara con le barche sul ghiaccio. Il terzo è una TNT Run. Il quarto è... Non ricordo il quarto. Ah, il quarto è Golf con le Ender Pearl. E il quinto invece è una sorta di ammazza i mob e raccogli drop. E chi raccoglie più drop vince. Questa ragazza qui, False Symmetry, che è uno dei membri della Hermitcraft, io la seguivo nel 2014. E nel 2014, quando aveva ancora un canale molto piccolo, al tempo, su Twitter, fece un giveaway per avere un'immagine del profilo custom a tema Minecraft. Io retweettai quel suo tweet in cui l'annunciava, venni estratto, e lei mi disegnò quello che fu il mio primo logo. Sì! Ma che cazzo mi sono smutato nel momento giusto? Cosa è successo? Sì! Ebbè, cosa hai fatto? Capita, Sparkles ha letteralmente alzato la vista. Sì. E sta continuando a fissare la mia faccina. Guarda che stupido che sei. Io fermo con ci, ragazzi. Sì, era capricciante. Vediamo quello che molla lo sguardo, dai. Esatto. Una gara. Se n'è andato lui, hai vinto tu, Ebe. Voglio fare King Kong, ho deciso. Che sei su, vuoi fare King Kong? Sto andando sulla torre a flexare che sto lì. Ah, cazzo, vengo anch'io. Comunque è un più uno. Ce l'ho fatta? Che ha aggiunto l'enderperno. Ce l'ho fatta! No, vabbè. Non mi spingere! Hello! Ciao, illumina. Qualcuno. Sì, ma non mi vuoi buttare giù. Sì, ma non mi spingere! È la mia torre! È la mia cazzo di torre! Va spingere giù le persone! Dovete andarvi nella mia torre, ok? È la mia torre. Ci siamo tutti, mi sa. No. Cavolo. Podiamo farci il... Un bel nick per il team. Oh! Ma? Ti ho fatti? Così, così, da nulla? Ok, ho terminato! Così? Oh, cazzo, si comincia così senza neanche un preavviso. Io potevo essere in bagno. Ha iniziato, eccolo! A me sta caricando... Ok. Tutte le texture packs, raga. Allora. Si parte subito. Ma c'è la keep inventory, secondo voi? Ah, bella domanda. Questo non lo so. Ma c'è gente che ha già fatto best friends forever. Come cazzo ha fatto a brindare cose? Punto primo, vado a uccidere una glow squid. Dove le trovo le glow squid? Ah, è vero, cazzo, sono sottoterra. Ok, vado, vado a vedere se li trovo. Ho trovato un villaggio. Raga, sono morto. Eh, be... C'è la keep? No! Io ho morto. Non c'è la keep. Non c'è la keep? No. Cazzo. E vi dico di più, mi sai che il server è pure in hard. Cosa sto facendo? Sto morire e morire anch'io? Ok, vabbè, rip. Ok. Allora, facciamo le cose con ordine. Mi faccio degli... No, perché sto prendendo ferro io. Allora. Cosa? La keep mette della zappa c'è, no. Quella da zappa? Ho buttato in giro la cosa. Ragazzi, ho buttato in giro la mappa con... No, tier. No, tier. No, tier, cazzo. Ho premuto Q per sbaglio. Ma quelli c'è già anche X3. Ma poi non è che dici da droppi e rimane lì. No, è scomparsa. Ah, il cavallo, va teimato il cavallo, giusto. Bravo, raga. Bravo, raga. Eh, cosa sei da per temare il cavallo? Niente, basta che ci premi sopra. Lo sto facendo io quello. Ah. Ecco, verso l'alto. Ehm, se... Ok, abbiamo fatto un altro punto. Ehm, se sali verso l'alto, prenditi una barca e cerca di... Una pecora. La capra, la capra. Sì, 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 sì. Io mi sento perso. Ragazzi, mi sembra di non... Mi sembra di non star facendo un cazzo di niente. Sì, non stiamo facendo... Infatti, l'angoscia più totale. Ma ci siamo... Comunque siamo sedicesimi. Oh, ve l'ho detto io, sedicesimi. Ehm, qual è la cassa? I barili? I barili, uno dei barili forse l'ha messo. Ho trovato lo squid luminoso, ragazzi. Vai, vai, uccidilo, e poi fai un cartello e basta che illumini la scritta. Ok, ho fatto anche cosa dell'illuminazione con il... Perfetto, grande. Ok, buono. Allora... Mi faccio subito una piccola attrice. Orca puttana! Oddio! È arrivato dietro! Ma sei vomitevole! Ma mi è arrivato dietro! Siamo prendendo solo noi in chat, comunque. Sì, siamo i migliori. Ho fatto il copper waxato. Non ce l'ho fatta? Sì. L'ho caffato. Devi applicarglielo quando è... Quando è fuori piazzato, mi sa, eh. Passo adesso. Fatto. Quindi wax on. Allora, posso dire che c'è una cosa molto più semplice a questo punto? La terza. La quarta colonna. La quarta colonna. Dobbiamo coprirci di diamante. Uno deve fare un'armatura in diamante e due devono andare nel nether. Cerco una caverna, cerco i diamanti e vado a prendere... Cioè, meglio, a parare un colpo da un mob. Gianco, sei riuscito a trovare i diamanti per farti un... un'armatura? O un pezzo di armatura? Gianco? Eh... Sì, cosa stavi dicendo? Sei riuscito a trovare abbastanza diamanti da farti un pezzo di armatura? No, non ho diamanti. Sto risalendo per... Allora scendo, io provo a prenderli. Entra nella barca! Yes! Bravo. Bravo, Simo. Ottimo. Che palle, oh! Arrivo mid-zona. A questo punto dobbiamo rompere la Crying Obsidian e inciantare una roba per fare un bingo. Ok, aspetta, ne ho trovato un po' io qua. Qua con i mob si muore troppo easy, però. Porca puttana, ho toccato della lava, spero di non morirci. Arrivo! Io già sto cercando di bastione, Gianco. Allora, ho trovato la fortezza intanto, abbiamo una fortezza. C'è un obiettivo che chiede di uccidere un Blaze con una cosa del Blaze. Con un... Ah, proprio picchiarlo con la verga del Blaze? Picchiare... Cioè, uccidere un Blaze con la verga del Blaze. Allora, uccidete me, eh? Sì, buono. Faccio l'armatura in diamante, raga. Ah, ce l'hai. Fatto, fatto, fatto. Ok, Crying Obsidian ce l'ho. Fatto. Ok, perfetto. Manca giusto inciantare, ragazzi. Ho bisogno di Ossidiana che la sto cercando. No, lì ce n'è. Lì ce n'è, lì ce n'è, lì ce n'è. Mamma mia, mamma mia. Oh no, questo, ragazzi, è quel bastione lì. È finito. Quello che c'è alla pozza sotto. È inciantato. Ah, ok, il housing. Raga, abbiamo fatto un bingo, è inciantato. Oh! Raga, siamo... Noni, noni, buono. Noni, noni, no. Possiamo farne un altro? Eh, ma avremo bisogno del Dragon Breath. Ciao, ne. Dovremmo fare Return to Sender e uccidere il Ghast. Fai la bottiglietta di vetro con la sabbia, la smelti. Eh, sì, devo tornare su perché non ho più un cazzo. La bottiglietta di vetro ce l'ho. La bottiglietta di vetro ce l'ho. Ok, basta che il drago soffi e con la bottiglietta... Allora arrivo io. No, comunque, Gianco, basta prendere una blazer. Non serve ucciderlo con la blazer. Ok, ok. E allora, Gianco, Gianco, tu che vuoi fare? Vuoi andare con me? O nel... Nel Nether. E anche io sono nel Nether. La fortezza dei blazer. Che bisogna fare? Eh, uccidilo. Uccidilo uno e fatti droppare una blazer. Ok, che cosa ci manca? Botto di roba. Eh, io sto andando a cercare... Ah! Se troviamo un pillager... Eh, cazzo, però... E c'è l'outpost. Dov'è? Eh, non lo so. C'è l'outpost. Cosa devo fare col pillager, Gianco? Allora, uno bisogna sparargli con la crossbow, semplicemente. Devi fare una balesta e sparargli. Dal lato opposto, mi dicono. In chat. Bene, ho sbagliato. Quindi le boccette le hai preso tu, Eme? Eh, la boccettina sì. A nessuno... Avete già incantato la roba? Sì, è già incantato. Sì, sì, già incantato, già incantato. Ora sto cercando di ritornare a prendere il ferro, perché sono morto e devo... E poi devo cercare una zucca. Fatto. Fatto, bingo. Buono. Ok. In tutto questo non nessuno è riuscito a tradare dell'oro con i piglin? No. Mi sarà stato vero? Io l'ho tradato con i piglin. Ah, ok. Non ce l'ha dato. Non ce l'ha dato? Ancora non ce l'ha dato. Mi sa che han finito. Qualcuno ha finito tutto? Qualcuno ha finito tutto? Sa di sì. Niente ghast. Va bene il gioco. Fammi trovare, fammi trovare. No, niente, rega, non ce l'ho fatti. L'ho portato un terzo di vita. Si è rotto il portale. È niente. È vero, è niente. Ragazzi, allora andate veloci in caverna, cercate di prendere del ferro, che proviamo a fare gli ultimi due, cioè creare un iron golem e colpire un pillager con il ferro. Vaffanculo, son morto. È niente. Il ferro in che senso? Cioè con una crossbow, pardon, ma son morto, ragazzi, è andata. La 22. La 22. Ah. Eh, fantastine and watch it grow. Cazzo, dobbiamo fare un semino, un semino. La bone meal. Eh, non abbiamo fatto il semino, davvero. No, non abbiamo fatto il semino. Non abbiamo fatto il semino, rega. Cazzo, il semino. Raga, allora, il seme ce l'ho, il seme ce l'ho. Però mi serve. Anch'io. Qua ci sono dei letti, ci sono tantissimi letti, raga. Eh, a me serve la zappa per piantarlo. Hai del legno? Faccio CD Place. Bravo, Simo. Ok, ok, ok. Buono. È l'unica cosa che abbiamo un minuto, raga. Le altre non le possiamo fare mai. Le altre sono spara da lontano, tieni 30 di ferro. Non ce la possiamo fare mai nella vita, ragazzi. Cazzo, è finita. È finita. È finita. Siamo diciassettesimi, no? No. Ci stanno superando alla fine. Fermatevi. Diciassettesimi. Ho appena trovato la caverna della vita, io. Diciassettesimi, Pog. Che sfisca. Ho trovato la caverna della vita alla fine, ragazzi. Diciassettesimi su venti. Sapete qual è la cosa che mi fa rosicare di brutto? È che se letteralmente avessimo colpito quel cazzo di ghast, probabilmente saremmo stati 5-6 posizioni più in alto. Eh sì. Eh bro, ma quel ghast era ingastabile. No, no, ma lo so, figurati poi con l'agghettino del server ci sta. Io non l'ho trovato. Non l'ho manco trovato un ghast. Onestamente puntiamo alla top 20, di più è un po' esagerato. Sì. Ci sta, ci sta. 20 è cassa. Cassa. Top 20, no sì. Ragazzi, se arriviamo nella top 20 abbiamo il premio, eh. Eh certo. Non scherziamo. Scherzi, io lo voglio sto premio. Eh... Cazzo, 500 dollari. Ma cioè, scusate, la top 20 è il minimo, no? Diviso 4, sì. Alla top 20 è il minimo. Con le tasse. Con le tasse, quindi ci rimangono... Il cambio dollaro-euro che ci smeniamo, però... C'è, c'è... Ci sono. C'è, vai a cena con la ragazza, ci perdi soldi. Manco quella ti paghi. Io non li dichiaro, ci vado in bancarotta. Pensa quanto farebbe ridere se tu venissi indagato dalla agenzia delle entrate perché non hai dichiarato i 125 dollari del Twitch Rivals di Minecraft. Se li gira le falle, è così. Come un'azienda cinquezza. C'è il giudice che ti guarda e ti fa nerd. E poi ti condanna a 16 anni di carcere. Maldizione. Oh no. Ok, si comincia. Ecco, siamo insieme. Pronti, pronti. Pronti. Raga, sono l'ultimo rimasto. No, raga, devo andare in bagno di nuovo. No, scherzo. Bro, ma... Sto giro, no, sto giro, no, mi giuro. Massimo, è letteralmente la tua pista. Ma io sto guidando. Ah, tiar, 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 tiar. Tiar, 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 tiar. Sono partito io, oh cazzo. Ah, ok. Ma io stavo scrivendo in chat la W perché pensavo in che stavo andando. Ma perché io devo partire? Perché tutta questa pressione su di me? Vai, tiar, tiar, tiar. Tiar, sei ventesimo, tiar. Ma come ventesimo? Prega, c'è uno in barca con un altro. Eh sì, ho visto. Ma infatti. Bro, ma c'è un'altra team. Ce li ho davanti quei due che sono insieme. Devo stare. Ma sei secondo, terzo. Ma che senso ha. Ma non è vero, non è vero. Non è vero, ma è tutto quanto rotto, tranquilli. Non lo guarderei la posizione. Vai, drifta. No, c'era uno shortcut lì importantissimo. Bello. Bello, no? Piaciuto? Pusha. Ok, ci sto provando. Quanto dura sto giro, non ce la posso fare. Gira, c'era dove? E non l'avevo visto, bisognava girare lì. Curva corta, vai. Il prossimo sono io comunque, ok. Ok. Ah, fanculo. Mi ho superato in sedicimo. Ok, sto per finire. Mi sei pronto? Entra, entra. Vai, 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 vai. Vado, vado. Madonna. Ah, ecco, una cosa che dicevate voi. Ecco, per le cure. Ma? Mi è crashato. Ma? Mi è crashato. Ma mi sei forse la stanno riavviando, raga, perché c'erano quelli doppi in team nelle barca. Ma come? Sì, no, 100 anni. Abbiamo vinto noi, quindi. Ma raga, ho perso i capelli. Me non ho più illustrato di... Ah, ora sei anche tu come me. Eh, eh, eh. Ok, ultima forchettata. Aspetto, mo'. Presto, mangia. Vai che tocca a te sicuro, Tiara. No, Erin, mi toccava... Mi stava stoppando la macchetta. Tiara, tiara, partendo. Tiara, tiara. Ok, tiara, tiara, tiara. Tiara, tiara. Vai, tiara. Tranquilli. È lo stesso ordine di prima. Ma poi li hanno le gomme da neve. Eh, io, Eme, Simo e Gianco. Bravo, Tiara. Mi stai prendendo una velocità disumona. Ma no, Tiara. Tiara, sei secondo, Tiara. Non velocitare. Sono pura velocità. Un vincitore. Allora, ti voglio mettere... 19 perdenti. Cazzo, ho sbagliato. Tiara, ma porca puttana. Attento. Lo stesso errore di prima. Eh, cazzo, mi sono incastato... No, no, sto andando malissimo, ragazzo. Sto andando malissimo. Non ci vedo un cazzo... Eh, vabbè. Vai, Tiara. Ma che cazzo? Mi sono incastato dentro le altre cose. Mi sono buggato dentro le altre barche. Ma che cazzo vuol dire che mi vengono attosso gli altri? Dai! Supera lì, bravo! Oh, comunque il giro di prima era molto meglio. Minchia, ma decisamente. Ma... Attento alla palla, alla palla! Ma sono atterrato sopra gli altri. E mi rallentano, non dovrebbe succedere questa cosa. Eh, forse ci sono le collisioni. Eh, ci sono le collisioni. Tiara, Tiara. Ok. Ma era molto... Ma vaffanculo! Ma c'è uno shortcut! Che mo' lo conosco tu! Tiara! Ma, Tiara, cosa fai? Sei ultimo, Tiara. Eccolo, lo sapevo, io lo sapevo. Sei quindicesimo, Tiara. Che succede? 17. E se guarda che se fossero rimasti con il giro di prima, ci avevo messo 10 secondi di meno, eh. Eh, lo so, lo so. Dove è su le 48? Non è importante, ragazzi. Vai, adesso... Bisogna recuperare. Ah, grazie a Tiara abbiamo scoppiato dove non andare. Eh, vabbè. È la curva finale pura. Eh, vabbè, ragazzi, scusatemi. Non so cosa dire. Cioè, io... 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 Vabbè, vaffanculo. Adesso noi faremo ancora più schifo. Ma, si è... Ok. Ma? Mi ha frizzato tutto. Ma che cosa stai dicendo? Bella discesa. Bravo, Simo. Oh, c'è i tuoi davanti, eh. Questo... Mi sta... Questo? Ah, ma come... Vabbè, ma quanto sono usciti veloci loro? No, guarda che sta laggando tutto, Simo. Tutto dritto, tutto dritto. Eccolo. Bravissimo. Vai. Tutta l'altra. Bravo, Simo. Vai. Il tempo nel Junk Extreme. È finita, ragazzi. Vai, Junk Extreme. No, no, è finita. Vai, Giancarlo. Ma come? I CP che sono primi, ragazzi. I minchia. I sup sono secondi. Dritto? Ci mettiamo altri due minuti. Eh, vai che fa il tempone, altro. Guarda, guarda che... Guarda il tempone, cazzo. Destro. Eh, peccato questo. Tu facci un errore. Bravo, però. Sedicesimi? Eh, no. No, diciassettesimi, mi sa. Ancora? Ancora diciassettesimi. Vabbè, 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 vabbè. Minchia, Junk, 1,36. Ha fatto il tempone. Buono. Oh, ma guarda che se avessimo finito con 20 secondi in meno, che sono quelli che mi hanno mangiato con il remake, saremmo arrivati i tredicesimi. Minchia, c'è uno che ha fatto il giro in 1,30. 1,27. Pizza ha fatto 1,27. Sì, ha fatto in 1,36, non è male. No, no, ma guarda, sei andato alla grande. Chi è il peggiore, a parte non classificato? 2,44, ne sa. Sì. E vai, non sono io. Io sono il secondo peggiore, però, eh. Ragazzi, il server lag è perché siamo 80 persone dentro. Cioè, ve lo sembra chiaro. Eh, normale, siamo 80 persone. Tutti quanti in una zona piccola, anche. E Minecraft è fatto benissimo. Oh, no. Guarda. Raga? Dash. Si parte. Io sto correndo. Io sono fermo. Io sto correndo a piedi. Oh, 5. Parto di io di nuovo. Go, 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 vai, 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 Tier. Chi è, Tier? Tier, muoviti. Fa andando. Ma i dati li diamo fermo. Ma sul mio scherbo io sto andando tantissimo. E tu vai, fotti te ne. Il momento della redenzione, Tier. Madonna, Tier. Rivals. Ah, è lì, è così, è lì. Ma hai fatti delle Tier. Sì, sì, sono andato, me ne sto fregando. I potentissimi. Ma cosa? Eh, vabbè. Ragazzi, io non ero lì comunque. Ma sto glitchando con un'altra persona. A mezz'aria. Ma che cosa vuol dire? Sapete che io, è la terza volta che rifaccio questa curva. E sicuramente mi ricaccia indietro di nuovo. No, ma è tutto fermo. Guardate anche il tempo, come si muove. Ma intanto vuoi ordinare per cena, per caso. Eh, welcome to Boatrush. Eh, vabbè. Disconnesso pure. Raga, ma... I sviluppatori hanno detto che ci sono delle complicanze. Ebbè. Ma io ho stato susserciato. Allora? Cosa? Eh, perfetto. Ma come la si salta? Ma raga, io mi sento bullshitato. Cioè, nella prima stavo andando da Dio. Nella seconda è andato una merda e poi non mi dai neanche la possibilità di rifarmi. Che stavo andando bene pure adesso. Niente, T-Rest, c'è condannato. Niente, ragazzi. Sì, sono condannato a fare i peggiori rivals di sempre. La peggior performance di sempre. Oggi sono tessimi per colpa tua e non per il più mini gioco sbroccato. Ma qual è l'altro minigames? Era il TNT Rush? Sì, TNT Rush è l'altro in cui faremo cagare. Non contate su di me. Io non so saltare su Minecraft. TNT Rush, guys. Ecco, ci siamo. È un TNT Rush con 80 persone. Avete idea del lag che c'era prima? Immaginate il lag che c'è adesso con i blocchi che si muovono. Cado. Ma c'è un doggo. Ma c'è l'emote del doggo. Qualche anno fa con Simo, non so se ti ricordi, avevamo fatto un video per me in cui cercavamo di fare un achievement sui pixel in cui bisognava finire questo gioco senza muovere il mouse. Ah, madonna, sei un pazzo, mi ricordo. Lì ho scoperto che il trucco è o ti isoli dagli altri e ti tieni nella tua isoletta, però siccome qua non è possibile perché non è divisa l'area, oppure cerchi di stare in mezzo. Merda! Oh, vaffanculo, così ma io stavo guardando la partita sul secondo schermo. 3, 2, 1, vai. Oh, porca puttana, ma davvero partiva da dove eri? Ma vai a cagare. Mi è arrivato da dietro uno, mi ha rubato a me il boost e mi ha fatto cadere. Ma si può? Ragazzi, sono all'ultimo piano. Ci sono dei K giganteschi, ma sono all'ultimo piano. Oh no. L'Elytra mi ha fatto cadere. È stato bello conoscervi, ragazzi. Ma no, ma l'attivate l'Elytra. Noi siamo tra i pochi, erano tra i pochi, con tutti i player attivi. Sì. Ragazzi, sto try al danno in una maniera allucinante. Sono terzi, eh. Perché può succedere tutto alla fine. Alla fine, raga, l'Elytra non ve le attiva, ve lo dico. Sono caduto anch'io. Il troll. Sono caduto anch'io. Ho sbagliato un salto, l'ho faccappato. Ho fatto un salto e c'era il blocchino di vetro nel bordo. Mi stanno chiamando al telefono. Vai Gianco. No, no, lo distru... È niente. No, dai, non bello. Mi ha una pezza di meno merda. Porca droga, non mi ha spiegato il telefono sul telefono. Tranquilli. Ecco, lo sapevo io. Rilevo delle quantità di lag eccessivamente. Mamma mia Gianco Extreme. Ma che cazzo si è riservato? Madonna, quanto sono arrivate tardi quelle snowball? Un posto del paradiso. Verrà che mi sto a fare tutti i bordi. Anzi, una sedia nel Valhalla. Vaffanculo. Vabbè, comunque l'Elytra non serve a niente, ve lo dico. Sì, però non mi puoi generare i blocchi rotti dopo che io arrivo. Raga, aiuto! Dai, scelto il fogo di me. Sì, vabbè, raga. Io ho saltato due cose a posto. Eh, ciao. Sono all'ultimo piano, ragazzi. Idem. Sto giro sta andando malissimo. Vabbè, raga, c'è quello che sta nuotando. Ma che merda l'Elytra! Vedi che non serve a niente? Mi ha fatto cadermi di sotto. Eh, punta pure a me, mi ha fatto morire. Sì, sì, fatti, raga. Mi ha usato e mi ha buttato giù. Raga, voi a che livello siete? L'ultimo. Morto. No, no. Fanculo son caduto come un pirla. Eh, ma è bello. Scusate. Vabbè, dai, retefalle. Gianco, ci sei di nuovo soltanto tu. Sì, sono il piu! Ecco, bello. Oggi lo siamo ultimi, mi sa. Ma hai fatto che io non ho mai trovato, tipo, i power up, ne ho trovati un paio e basta. Io li ho trovati, ma... Secondo me conviene non usarle. Dai, devo ordinarlo a pochi! Sì, aspetta, 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 alla fine di questo round. Ah, c'è qualcuno che durante i giochi è stato kickato. Allora, è scritto non possiamo farci niente. Ma mi ha giocciato addosso! L'avete visto? Eh, vabbè, quello chi l'ha preso? Eh, vabbè. Eh, vabbè. Sono caduto di quattro strati, ragazzi. Sì, l'elitra è lo schifo, non usate. Che cazzo sei? No, no, l'elitra o la usate davvero col leap, oppure no. Cioè, oppure non ha senso. No, è la cosa più inutile del 2021. Porca puttana! Ma non puoi generarmi 16.000 blocchi rotti davanti alla faccia all'improvviso, dai! No, siamo a 10. Descimi. Resistete, raga. Porca puttana! Sai che tutti insieme, c'è un insieme! Dodicesimi di nuovo. Bellissimo. Fuck, peccata, eh, mi ha tagliato la strada, è stato proprio lui. Diciannovesimi, raga, siamo arrivati ben ultimi! Come diciannovesimi? No, ragazzi. Siamo stati i primi a essere eliminati in sto giro, apparentemente. Siamo diciassettesimi. Ma porca puttana! Non è possibile uscire da questa posizione? Siamo salghi, però. Allora, io ve lo dico. Io avevo puntato al sedicesimo, un po' me mando sperando di arrivare almeno al dodicesimo, però... Mi sa che sto putto è l'unica cosa che possiamo ambire. Condivido una resub che ho ricevuto. Vai. Ciao, generale. Sono felice di supportarti. Generale. Volevo... Aspetta. A capo. Volevo dire Emerald. Di solito quando scrivo al generale è perché il correttore è che cambia da Emerald in generale. Ah, adesso di quello a me succede teatro. Ciao teatro. Ciao teatro. Secondo me si sono rotti il cazzo pure i cratoni stanno giocando a briscola. Non mi sto bene. Io ti credo di che non ancora sti coglioni stanno qua dentro. Ma fare un 25k diviso 80 e via. E la chiudiamo in amicizia. Quanto fa? Sono 312 dollari le testa. Cassa! Ah, buono. Meglio di quello che avremo noi. Annuncio importante su Discord o no? Sono arrabbiati. Oddio! Dividono per 80! Aspetta. Cosa vuol dire? Ma dove? Lo fan davvero? Sì! Raga, dividono per 80! L'ho detto! 310 dollari! 310 dollari a testa si gode, cazzo! Si gode, cazzo! Si gode! Il triplo! Raga, è un per tre! Si gode, raga! Questi qui vanno tutti in Dogecoin! E si prendono più ore e più molluri qui! Ma si gode, il livello! Automaticamente il tempo sprecato ne avanza la pena, ragazzi! Cassa, bro! Comunque, sì, gli altri giochi li giochiamo lo stesso. Semplicemente per via dei problemi tecnici hanno deciso di splittarlo per evitare di dare dei premi a persone che magari avevano dei vantaggi a livello di connessione, tutto qua. Si comincia a InterGolf, ragazzi! Si gioca for fun e ci portiamo a casa 300 dollari senza aver fatto un cazzo in meritato. Bellissimo! Oh! Mo' diventiamo primi! Oh! Il colore! Rosa, ragazzi, abbiamo a disposizione massimo due minuti e massimo dieci tiri. Dobbiamo suggerire i tiri da tirare. Sì, ma raga, dov'è la buca qua? Scusate, non... Ah, c'è il bicone. Penso sia tutta dritta. No, c'è il bicone dietro il faro. Ma, raga, il bicone io non lo vedo. È a sinistra dello start. Io l'ho fatta in quattro, raga. Gianco! Io l'ho fatta in quattro. Ok, io in cinque parto. Non la sabbia. È un tiro in più, questo. Eh, vabbè. Peccato. Ma è uscito! È uscito! Ma basta, ma cos'è il goalfit? Ma anche qui devo... Devo... È un po' di brutto, secondo me. Raga, siamo primi. Ma l'abbiamo finita per primi, questa. Un albero mi ha ciucciato, ragazzi. Vabbè, dov'è? Malissimo. Ti eri finito sulla barracca. Sì, sì, ma ce la fai riprenderti dopo, eh. No, ma io sempre negli alberi finisco, ragazzi. Ma chi è? Raga, io finisco sopra l'elicottero? Non è vero? No, nel sabbione. Il tetto è buono. Questa male, raga. In quattro. Oh, io forse la faccio in quattro? Madonna, Godus, proprio. Anch'io ho soltato... No, questa cosa la faccio in sei, io. Non ci credo. Parto. Ok. Fate in cinque, io. Bella. Ma c'è gente che ha quitato, c'è gente che è rimasta da sola. Quando è svalito il Montepremio, ho detto, boh, bella, ragazzi, io me ne vado. Vabbè, no? Sì. No, io spero che non gli diano il premio, allora. Così ho mente il Montepremio per tutti, cassa. Il Bicoy che trapassa l'anno della statua, perché? Ecco perché. Di proposito. Ma l'ha memata fortissima, sta cosa. Ma è davvero? Ma gli entra nel culissimo. Sì, sì, però è il Curentra, raga. Che culo. Cosa? No, no. I gol. Signori. Quattro tiri. Io sei, ho fatto par. Par, io par. Che pal. Eh, ho beccato un punto brutto. Va bene, va bene, va bene, raga. Tutti sul par. Sono bloccato sulla cosa. Anche la faccio in sei, questa. No, la faccio in sette. Ho sbagliato a tirare. No, eh, rega, io ho spazzuto contro la statua. Sono uno scemo. Sono uno scemo. Undicesimi. Peccato, avrei detto molto meglio, sai? No, ma com'è possibile che abbiamo perso posizioni facendo dieci punti, quando prima ne abbiamo fatti dieci in tre gare? Facciamo pari merito con altri due team. Ah, ok, quindi potremmo essere anche tranquillamente quindici, sedicesimi. No, no, ho fatto le fidiate nel golf. Sedicesimi pari merito? Eh, Captain Sparkles, non sei più quello di una volta, eh. Eh, già. Quei soldi ti facciamo incomodo. No, Zivo, non dirlo. No, sto scherzando, sto scherzando. Ho rubato il pietro. Oh, si è convinto. No, no, va dentro. Raga, te l'ho fatto startare il minigioco. Bravo, eh, meno male che ci sei. No, tu non meriti nulla. Sì, andiamo, scendiamone uno. Quello mi sembra di... Mi sa che il suo tipo degli elementi può essere, eh? Quello mi sembra fuoco, quello erbo. Ah. Dobbiamo prima sbombolare questi. Un pezzo di merito. E la vita? Ah, che si è autoregenerato. Eh, vai, vai, vai. Possiamo decidere in quale andare, ragazzi. Io sono andato al Mosk Dungeon, raga. Ma le siamo in qua in fondo, noi. Ok, andiamo, andiamo, andiamo. Uccidere. Ma il pufferfish è da 25. Cazzo, pufferfish è bastardo. Muori. Oh, la versione è. Eh, beh, tienila, tienila. Questo moz è gianta. Raga, ho una pozione di forza. Lo uso contro il boss, allora, appena lo troviamo. Sì, bravo, bravo. Ok. Ma c'è uno che qua è saltella, what the fuck? Ah, c'è la forza sopra. No, non ce la posso fare a entrare in quella palla lì, ragazzi. Come cazzo si fa? Ah, devi mirare più in alto, Tier. E fare... Calcolare la palombella. No, 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 non è perso, non è perso. Ok. Non è vero. Ma faffanculo! Ma faffanculo! Noi perdiamo perché non sapevo usare il tridente. C'è un altro checkpoint, se volete. Non so però se sbloccarlo o meno. Se depositarle le monete o meno, perché ne abbiamo un po', eh. No, io non le ho deposito, lo sai. Sai che le tengo anch'io per il boss? Il boss raddoppia. Eh, esatto. Mi sa che il boss è qua. Aspetta, ma non credo che funzioni così. È dello slime, ma c'è una corona gigante. Oh, lo sento, ma non lo vedo. Ah, eccolo. Raga, io c'ho... Porca puttana. Oh! Ah! E' tanto, c'è ancora tantino. No. Ma gli ho sparato il razzo, non ha funzionato. Sono morto, ho perso tutto quanto. Eh, raga, non ve l'ho detto. Fanculo. Ah, no, forse perché la chat è... Ok. Ok. A posto, fatto. Mi tengo uno per il due, è uno per il cinque. Buono, io ho tremila monete. Ok, tornate, tornate, allora. Torna, torna, vai a depositarle. I qua abbiamo svuotato tutto. Niente. Ma se invece tipo rushassimo... Il boss e poi tornassimo a far tutti? Eh. Eh, però fai meno monete dai baccarose. Quello è vero. Ma vedi che il moltiplicatore ce l'abbiamo mò adesso? Quello d'è. Ma anche Gianco ha depositato tremila monete che aveva accumulato anche prima, eh. Eh, per 1,5... Che sono stati 4.600. E guarda che ti contava anche... Non è che era il drop... Era il drop del mob. No, 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 no. Ti conta, è l'1,5 sulle monete che depositi in quel momento. Eh, ma dove sta? Non lo vedo. Vabbè, capitano... Ha segnato la Macedonia. No, ma che stai dicendo? Ti giuro al 92esimo. Eh, quindi siamo fuori. Ma madre di Dios. Davvero? Sì. Ah, è il gas invisibile, regà. Ah, figa, l'ho visto mo'. Come cazzo? È il gas invisibile tutto. No, col trento non ci arriviamo. Vite a vicino il più lui se ne va, eh. E non riesce a rispondere dietro le cose. Ah, ragazzi, questo boss qua non è fattibile. Cioè, se non scende come lo... Non lo vedo, ragazzi, ti giuro. Oh, non riesco a prenderle le palle. Che rettato. Mi sei piaciuto, Gianco. Affamocca. Che... Che bastardo. Ma... Che c***o, morì! Raga, ho preso la possibilità di forza. Vai, ehmè. È morto. Vai, sei! Buono, andiamo a farci l'altro. Positati. Tante secondi. Eh. Cazzo, semena. Ok. Dovevo tenermi tutta la maniera dall'inizio. Allora, andiamo. Fine. Ma che era mai? Cosa? Per fightare. Ma io sto dietendo per fightare, io. Hai mis up. Ma ragazzi, siamo di una ventesima. Ad una fine. In questa epopea. Del Minecraft Rivals. Fammi vedere come sono finite. La scoreboard finale. Ragazzi, si gode! La salvezza! Sedicesimi! Sedicesimi! Siamo arrivati sedicesimi! Siamo ancora dentro ai mondiali, raga. Ce l'abbiamo fatta. Stiamo arrivati ottavi, comunque. Ottavi in quel minigame. Oh, bravi alla fine. Che cazzo, l'ho predictato il sedicesimo posto. Magico. Magico.